In città, nel frattempo, il dibattito politico si è spostato ancora molto sullo stadio. Sembra che l'ipotesi Merca-Firenzo-Manovoli sia un po' adombrata nei piani della Fiorentina. Si riparla di una copertura del Franchi. Penso che possa essere fattibile. C'è soltanto da capire che cosa succederà e se è possibile muovere eventualmente le due curve. Credo che il problema più grande però sia l'accesso allo stadio, c'è la viabilità intorno allo stadio. Ci sono parecchi capitoli ancora in sospeso in casa a Viola. Il commisso deve avere a che fare innanzitutto con la grana chiesa. Ma per me non è una grana. Non credo che sia una grana perché comunque il giocatore, a mio avviso, rimanendo a Firenze in funzione di quello che è l'obiettivo dell'anno prossimo e cioè il campionato europeo, personalmente non gli consiglio di cambiare squadra perché comunque c'è sempre un periodo d'ambientamento. Lui qui è cresciuto, è entrato alla Fiorentina che aveva dieci anni per cui è la sua famiglia, è la sua città, ha tutto quello, è ben voluto, è ben visto, è coccolato. Ecco, cambiare società alla vigilia proprio della stagione che ti porta all'europeo, secondo me può comportargli delle difficoltà. Al di là di questo, lui ha un contratto con la Fiorentina per altri tre anni.